ciao a tutti amici di speedy news buona domenica bentornati qui sul mio canale parliamo oggi di reddito di dignità 3.0 al posto del reddito di cittadinanza in alcune regioni è già una realtà in altre potrà diventarlo presto quindi scopriamo insieme dove e quando mi raccomando seguitemi fino alla fine per non perdere nessun importante dettaglio ma prima iscrivetevi al canale mi raccomando con campanellina per ricevere tutte le notifiche in tempo reale un bel like e perché no tanti tanti super grazie e sono io che vi ringrazio appunto per il seguito e anche per queste donazioni grazie veramente a tutti allora tra le diverse regioni coinvolte in questo progetto del reddito di dignità troviamo in prima posizione la puglia che è stata sicuramente la regione promotrice di questo sussidio infatti i cittadini pugliesi lo sanno bene perché in puglia il reddito di dignità viene erogato già dal 2016 in quanto misura complementare al reddito di cittadinanza nazionale e le recentissime dichiarazioni dell'assessore al welfare barone contengono diciamo delle informazioni molto molto importanti che danno l'idea di come la puglia si è scesa in campo accanto delle persone più fragili infatti stando a quanto ha dichiarato l'assessore al welfare barone dal 2016 ad oggi sono state ammesse al beneficio al sussidio del reddito di dignità oltre 32 mila domande per una spesa di circa 60 milioni di euro e sempre l'assessore dichiara che al momento stanno lavorando a dura misura innovativa per cercare appunto di migliorare ancora di più il reddito di dignità e quindi dichiara che stanno lavorando a 360 gradi per una regione che sia davvero inclusiva in cui nessuno venga lasciato indietro molte appunto quindi le iniziative portate avanti in questi anni ripeto dal 2016 a oggi dalla puglia che in tal senso è stata sicuramente una regione promotrice che sta dando comunque un esempio un esempio concreto di supporto e sostegno al disagio sociale e alla fragilità di tutte le persone che appunto hanno condizioni particolari che non consentono appunto di avere un reddito dignitoso la regione è scesa in campo in aiuto di queste persone e sta pensando sta lavorando attivamente in base alle dichiarazioni fatte dall'assessore appunto su un progetto che migliori ancora di più questo reddito di dignità erogando appunto questo sussidio di 500 euro al mese ma nel contempo cercando di favorire pur dando il sussidio il reinserimento di tutte queste persone e sicuramente è di esempio questa regione tant'è che nella regione Lazio, altra regione quindi che si sta muovendo in tal senso, secondo appunto le dichiarazioni della consigliera regionale Eleonora Mattia è stata presentata appunto una proposta volta ad introdurre il reddito di dignità anche nella regione Lazio infatti secondo uno studio della CGL nella regione Lazio a perdere il sostegno fino a dicembre saranno progressivamente il 59% delle famiglie che percepivano il reddito di cittadinanza e quindi anche da qui parte l'iniziativa del consigliere regionale appunto Eleonora Mattia di mettere a punto una proposta di legge con al centro il contrasto della povertà e la promozione dell'inclusione sociale attiva. È stata già presentata la proposta di legge il primo agosto 2023 e aspetta appunto di essere calendarizzata. La proposta di legge regionale per l'introduzione di un reddito di dignità da 500 euro mensili per un anno per chi risiede nel Lazio nasce appunto con un obiettivo doppio fornire un sostegno alle fasce sociali più deboli rimaste orfane del reddito di cittadinanza e poi non lasciare soli i sindaci davanti a questa bomba sociale che appunto si ripercuoterà soprattutto sul welfare degli enti locali. L'auspicio diciamo la speranza è quindi quella che questa proposta di legge venga appunto in quanto già calendarizzata discussa e approvata al più presto e qualora dovesse essere approvata ci tiene a precisare appunto la consigliera regionale questa misura non sarà assolutamente in sovrapposizione con l'assegno di inclusione che partirà nel 2024 sarà un qualcosa in più al massimo potrà essere diciamo vista ad integrazione appunto per il raggiungimento dell'isee massimo indicato tra i requisiti pari a 9.360 euro ma non sarà sovrapposta quindi sarà un qualcosa in più ci auguriamo veramente che nel Lazio come accade ormai da diversi anni in Puglia questo reddito di dignità possa diventare presto realtà e quindi ci auguriamo che questa proposta di legge già calendarizzata ripeto possa essere approvata con quelli che sono poi i fondi a disposizione della regione e che sulla scia di questo e di quanto accade in Puglia tante altre regioni si attivino in tal senso ma di fatto è così perché anche in altre regioni c'è una mobilitazione molto attiva per misure appunto integrative al reddito di cittadinanza e presto qui su speedy news andremo anche ad intervistare coloro che sono i promotori di queste iniziative quindi mi raccomando continuate a seguirci sempre e comunque qui su speedy news iscrivetevi se non l'avete ancora fatto con campanellina un bel like abbonamento io vi aspetto presto qui con un nuovo video buona domenica a tutti